Ciao a tutti, amici di Vanilla. Sarah Biffen fu una donna che nacque alla fine dell'Ottocento e visse l'alba della lunghissima epoca vittoriana. Sarah era nata senza braccia e con un abbozzo di gambe, come fu scritto all'epoca, eppure divenne una famosa miniaturista grazie alla sua volontà di ferro. Prima di parlare di Sarah, però, è bene dare qualche notizia sulla sua terribile malattia congenita, la focomelia. Conosciuta fin dall'antichità, fortunatamente poco diffusa, ancora oggi le cause che la scatenano non sono ben note. Le ossa degli arti non si sviluppano nel feto, o si sviluppano soltanto parzialmente. Nei casi più gravi sono presenti mani e piedi abbozzati attaccati alla spalla e al bacino, e da qui il nome, che dal greco fochi, foca, e melos, arti, arto, significa arti da foca. La focomelia divenne tristemente famosa alla fine degli anni 50 e inizio 60, quale conseguenza del talidomide, un medicinale antinausea e antiemetico commercializzato con il nome di kontergan, che se assunto tra il 34esimo e il 50esimo giorno di gravidanza, tra gli effetti indesiderati, più gravi, può provocare la focomelia. A causa di questo effetto collaterale, circa 20.000 bambini in tutto il mondo, soprattutto in Germania, nacquero affetti da focomelia, ribattezzati dai mass media come figli della talidomide. Fra un momento torniamo a parlare di Sara, ma prima voglio ricordarvi di iscrivervi a Vanilla Magazine. Grazie a un vostro click possiamo portare questa e altre storie dimenticate sul canale, pubblicando video sempre migliori, ma per farlo abbiamo bisogno di sentire anche psicologicamente il vostro supporto. Quindi iscrivetevi e aiutateci a diventare almeno 300.000 appassionati di storia, cultura e leggende. Grazie mille. E ora torniamo alla nostra miniaturista. Sara Biffen era nata a East Quantoxed nel 1784 in una famiglia di contadini. I suoi genitori furono sicuramente ammirevoli nel tenerla con loro insieme ai cinque fratelli. Molti altri genitori dell'epoca l'avrebbero abbandonata al suo destino facendola morire. Sara viene descritta nei primi documenti come senza braccia e con un abbozzo di gambe, ma la ragazza aveva certamente un accenno di braccia, come si vedrà dalle testimonianze successive. La sua altezza da adulta era di circa 94 centimetri. Occuparsi di lei doveva essere certamente molto gravoso, in una famiglia senza mezzi dove tutti dovevano rendersi utili e guadagnare. Così, a 12 anni, venne affidata a Emmanuel Dukes, un uomo di spettacolo che la esibiva nelle fiere, i classici, quelli che poi dopo verranno ribattezzati come fenomeni da baraccone. Dukes e la moglie erano affortunatamente brave persone. Sara viveva con loro come parte della famiglia. Le insegnarono a leggere e a scrivere, e lei imparò, grazie alla sua grande forza di volontà, a pettinarsi e perfino a cucire e usare le forbici, tanto da arrivare a confezionarsi da sola gli abiti. Sara era una grande attrazione nelle fiere, si pagava il biglietto per vederla, ma Dukes, per aumentare i profitti e per dividerli parzialmente con Sara, le insegnò a dipingere con la bocca. La giovane pittrice iniziò a ritrarre paesaggi e scenari campestri e il pubblico, meravigliato di tanta capacità, iniziò ad acquistarli per tre guinee l'uno, e Dukes pagava a Sara cinque sterline l'anno. L'impresario proponeva anche una scommessa agli scettici visitatori. Avrebbe pagato mille guinee se Sara non fosse riuscita a dipingere, scrivere, cucire, usando prevalentemente la bocca. Alla fiera di San Bartolomeo nel 1808, Andrew Douglas, conte di Morton, notò l'incredibile capacità della ragazza e incredulo, pensando a qualche raggiro, le ordinò un ritratto. Tra una seduta e l'altra, non credendo alle parole di Dukes, portava con sé a casa l'opera. Alla fine, stupefatto, si convince della straordinaria abilità di Sara. Il conte la prese sotto la sua ala, le fece dare lezioni private dal pittore William Marshall Craig della Royal Academy of Arts, dove Sara, dopo tanto studio, riuscì infine ad essere ammessa. Nel 1816 il contratto con Dukes finì e la ragazza fu legalmente libera di dedicarsi completamente alla pittura. Il successo e la fama arrivarono nel 1821, quando Sara ricevette la medaglia d'argento dell'Accademia Reale come miniaturista. Le sue opere vennero esposte sia in Accademia sia in Mostre d'Arte e lei riuscì ad aprirsi uno studio tutto suo a Londra. Il conte di Morton presentò le opere della sua pupilla a corte e arrivarono nuove commissioni importanti dalle famiglie nobili e in vista dell'Inghilterra dell'epoca. Il 6 settembre 1824 Sara sposò tale William Wright. Esiste una cronaca del suo matrimonio dove si racconta che lo sposo toccò la sua spalla con l'anello e lo infilò poi in una catena che le mise al collo. Purtroppo il matrimonio non fu felice e i due si separarono poco dopo. Nel 1829 Sara si trasferì a Brighton dove viveva Maria Fitzherbert, moglie organatica di re Giorgio IV, della quale Sara fece alcune miniature. Il reverendo Edward Boyce-Hellman conobbe la pittrice a Brighton quando le sue cugini andarono a lezione di pittura da lei, e la descrive così nel suo libro Recollection of a Success Parson, ricordi di un pastore del Sussex. Una donna dall'aspetto pesante, indossava sempre un turbante ed era sempre seduta su un divano. Il pennello era appuntato a una grande manica a sbuffo che copriva il corto moncone della parte superiore del braccio. Fissava e staccava il pennello con i denti, quando era necessario lavarlo. Quando dipingeva, piegava la spalla destra in avanti, quasi a toccare il tavolo. Dichiarava di essere avvantaggiata rispetto a chi ha le braccia, perché sicuramente era più facile dipingere con un pennello corto che con un bastone lungo. Il reverendo ricorda anche che Sara aveva un servitore che la portava in braccio ogni volta che doveva muoversi. Sara, infatti, non era in grado di camminare, ma doveva essere una donna eccezionale e con un enorme senso of humor, tanto da dipingere anche una miniatura con un autoritratto nei tratti umoristici, quasi una caricatura, uno sberleffo alla sua disabilità. Sara lasciò improvvisamente Brighton per i debiti contratti. Il suo sponsor, se così vogliamo definirlo, il conte di Morton, era morto nel 1827 e, senza il suo supporto e con la separazione dal marito, era ormai ridotta in miseria. Successivamente riuscì a sopravvivere grazie a una piccola pensione concessole da re Giorgio IV, che le venne riconosciuta per tutta la vita, anche se l'assegno non doveva essere una gran cosa, dato che si trasferiva spesso lasciando poi la città per problemi di insolvenza. Nel 1839 dipinse Edoardo, duca di Kent, basandosi sul dipinto di George Doe su commissione della regina Vittoria che desiderava una miniatura del padre, miniatura che si trova ancora nella collezione reale. Nel 1841 era Cheltenham che lasciò per trasferirsi a Liverpool, dove nel 1847 versava in uno stato di tale miseria che Richard Rathbone, un noto filantropo, aprì una sottoscrizione per aiutarla. Sarah scrisse chiedendo aiuto anche a Charles Dickens, che aveva narrato di lei in molti romanzi e novelle, ma l'autore di Canto di Natale non fu mai famoso per essere un filantropo, e anche in questo caso non si smentì. Furono in molti gli scrittori a parlare di lei, e spesso la sua disabilità venne trattata in modo denigratorio. Sarah era comunque una donna molto forte e, nonostante tutto, sicura di se stessa. Non se l'ha presa male neppure quando, nel 1844, dopo un invito a teatro, si dimenticarono di portarla a casa. Venne trovata dopo ore dal custode che chiudeva, tranquillamente seduta ad aspettare. Col passare degli anni, la curiosità rispetto a Sarah si affievolì, e le sue miniature non furono più molto richieste, ma la pittrice continuò a lavorare fino a pochi giorni prima di morire a Liverpool il 2 ottobre 1850. Venne sepolta in città, nel cimitero di St. James. In Italia Sarah Biffen è praticamente sconosciuta, ma nei paesi anglosassoni è discretamente nota. Le sue miniature, dopo più di un secolo di oblio, sono ora ricercate e collezionate, e raggiungono nelle aste cifre ragguardevoli, anche totalmente inaspettate, come la sua miniatura autoritratto, forse la sua opera più bella del 1821, dove si può vedere il pennello fissato alla manica, che contro una stima di 800-1200 sterline fu battuta per ben 137.000 sterline nel 2019. Sarah visse molte vite, da fenomeno da baraccone a pittrice dei nobili inglesi, sino a tornare in una condizione di indigenza. Chissà se, come lei stessa affermò, fu davvero più fortunata di altri pittori nell'essere affetta da focomelia.